Ringraziamo tutti i partecipanti per questa importante serata, una serata che lancia questo marchio dei prodotti tessili delle 5.3 della Val Gandino, quindi direi che la partecipazione sia dei relatori, quindi molto importante, dalla dottoressa Tomassi al coordinatore di imprese territorio Vavassori, a Filippo Servali, Gianfranco Bosio e Silvia Longhi e tutto il pubblico presente credo che sia stato molto soddisfatto di questo lancio, di questo marchio dei prodotti tessili delle 5.3 della Val Gandino, che si spera, ma siamo convinti potrà esserlo, il futuro per quello che è il lancio commerciale dei prodotti che vengono realizzati qui in loco, quindi un ringraziamento e un auspicio di dare il via a questa importante iniziativa. Questa sera mi trovo qui all'Effe per questo convegno, il marchio tessile delle 5.3 della Val Gandino e farò una presentazione di ciò che è la normativa, delle evoluzioni della normativa italiana ed europea per il settore del tessile. Questo progetto che abbiamo lanciato questa sera è proprio una continuità del progetto delle 5.3 del Val Gandino che è partito nell'area commerciale, che questa sera ha cercato di far sposare quello che è anche un po' la peculiarità di questo territorio, una storia del tessere, una storia del tessile che aveva bisogno e di sicuro aveva bisogno sempre di più di avere un marchio, di avere un brand, come dicono oggi tutti ormai moderni studiosi, per poter essere visibile e identificabile dal consumatore. L'obiettivo di questo marchio è proprio quello di rafforzare la comunicazione di un brand che diventi un messaggio anche di, tra virgolette, garanzia di produzione locale e questo è un po' un tema che sempre di più dovremo porre all'attenzione dei nostri territori, quello di garantire che quello che viene fatto è fatto in questi luoghi. Il cosiddetto chilometro zero che c'è nell'alimentare, questo messaggio del marchio tessile del Val Gandino vuole essere un po' la stessa cosa per questo che è stata la massima espressione del sistema industriale, proprio il tessile di questo territorio che oggi ha bisogno di uno sforzo ulteriore per poter essere competitivo rispetto alla grossa competizione internazionale, ma anche alle competizioni territoriali che ci sono in Italia. Comunque tessere, comunque il mondo dell'abbigliamento, dell'arrivamento sono mondi importanti per la vita di ciascuno di noi e riconoscere un luogo che produce un prodotto è di sicuro una leva di marketing importante. Il percorso che abbiamo avviato questa sera provvede proprio tutta una serie di iniziative che ci consentiranno poi di definire le regole del gioco, come si dice, per consentire a quelli che vorranno aderire al progetto di farsi rete, la parola rete si usa molto spesso in questo senso, ma sarà proprio uno degli elementi anche discriminanti per poter, tra virgolette, partecipare a quegli incentivi che potranno anche esserci per poter rilanciare il nostro sistema industriale e artigianale. Ecco che è importante il marchio in questo senso, è importante fare rete, che questo marchio diventi un sinonimo di prodotto fatto in loco, fatto da imprese che mirano anche alla qualità. non è un marchio di qualità, ma vorrà diventare un marchio che è una garanzia che quello che si produce in questo territorio è fatto in questo territorio e da questo punto di vista il consumatore potrà essere garantito.